Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale, oggi parleremo di numeri e di statistiche. Rieccomi finalmente con un video, i miei amici e anche i miei followers, oddio, mi fa sempre una certa specie parlare dei followers tanto perché non è che ne abbia tantissimi, in ogni caso insomma molti sanno che sono molto pigro e quindi non faccio molto spesso i video. L'occasione per tornare a pubblicare un video me l'ha data il mio amico Andrea Buttarello che ha realizzato un sito web davvero molto interessante che si occupa delle statistiche di tutte le gare, di tutte le season di iRacing, quindi parliamo delle statistiche sulle vetture, sulle piste, incidenti, iRacing, giro più veloce, qualsiasi cosa. È veramente un sito molto interessante sia per quelli che adorano questo tipo di numeri ma anche per togliersi qualche curiosità, per esempio una delle curiosità più interessanti che sono venuto a conoscere utilizzando il suo sito web è la proiezione di quello che può essere il tempo sul giro a seconda dell'iRacing, per esempio se uno ha iRacing 2000 e va a girare con la SF23ASPA, le statistiche dicono che il tempo medio sul giro potrebbe essere quello e quindi è una cosa curiosa, interessante forse ma sicuramente curiosa. Quindi non perdo molto tempo, vi faccio vedere un breve tutorial che ho realizzato con la sua collaborazione, ovvero usando il suo video e prestando la mia voce e guardando quelle che sono tutte le possibilità di navigazione all'interno di questo sito e ci vediamo immediatamente dopo per un saluto e le considerazioni finali. Eccoci quindi nella home page di iRacingStats, andiamo a vedere ora tutto quanto si può scoprire dalle statistiche. Sono stati raccolti dati a partire dal 2021 e vengono aggiornati ogni mezz'ora con gli ultimi risultati. Il sito si occupa esclusivamente di gare official. Nella schermata iniziale vengono elencate le gare della stagione corrente e presentate in ordine decrescente di partecipazione. La colonna L indica la licenza necessaria alla partecipazione, mentre la colonna Drivers indica quante persone hanno partecipato. È possibile visualizzare la settimana di gare precedenti a quella in corso al momento della consultazione del sito. È possibile cercare, tra le gare proposte, una specifica serie digitando una parola chiave nella casella di ricerca. Qua si può scegliere tra Road, Oval, Dirt Road e Dirt Oval. Ora scegliamo una riga con la stagione di nostro interesse e andiamo ad analizzare i dati proposti. Nella parte superiore, oltre al tasto per tornare indietro, sono riassunti i dati della gara settimanale scelta, inclusi, data e ora della simulazione. Le sezioni sono 5. La prima mostra le gare tenute nella settimana. La seconda è utile per vedere gli orari con maggiore partecipazione. Nella terza ci sono i tempi sul giro previsti in base ai dati raccolti. Nella quarta ci sono i grafici dei tempi sul giro e nell'ultima i grafici degli incidenti. Sezione Races Qui abbiamo un elenco di tutte le gare, inclusi gli split. Il numero dei partecipanti ad ogni split, lo strength of field e l'iRating minimo e massimo dello split. Cliccando su una riga si apriranno i risultati dal sito di iRacing. È possibile selezionare la giornata di interesse. Sezione Season Participation I dati in questa sezione sono relativi non solo alla settimana in questione, ma all'intera stagione. Mostra il numero di split medi per orario, così come quelli divisi per orario e giorno della settimana. Saltiamo per adesso la sezione Expected Lap Times per andare a vedere i grafici dei tempi sul giro. Questo ci aiuterà a capire meglio come sono state fatte le previsioni, quindi ci torneremo dopo. Sezione Lap Time Charts Qua troviamo i grafici che rappresentano i tempi sul giro al variare dell'iRating. Come vedete abbiamo dei punti rossi e una curva blu. I punti rossi rappresentano i tempi medi rilevati, mentre la curva blu rappresenta una previsione sull'andamento del tempo al variare dell'iRating. Per capire meglio il grafico parliamo un attimo del lavoro di sintesi che è stato fatto. In una settimana di gara di una serie, c'è un numero di partecipanti nell'ordine delle migliaia o delle decine di migliaia. È quindi necessario decidere come trattare questa mole di dati per ottenere delle informazioni leggibili. Non potendo rappresentare decine di migliaia di punti, la prima operazione che è stata fatta è quella di dividere i piloti in fasce di iRating. Partiamo da 0 ed arriviamo a 10.000 con passi di 50 punti. Per esempio, il punto rosso in corrispondenza di 1000 di iRating rappresenta il tempo medio fatto dai piloti che hanno un iRating compreso tra 975 e 1024. Quello in corrispondenza di 1050 rappresenta i piloti tra 1025 e 1074, ecc. In estrema sintesi hanno diviso i piloti in fasce da 50 e per ognuna di esse è stato calcolato il loro tempo medio. La linea blu è il tentativo di unire i punti rossi per cercare di rappresentare il loro ondamento al meglio. Viene calcolato proprio a partire da loro e diventa la previsione del tempo sul giro previsto in base all'iRating. Passando con il cursore del mouse sul grafico o toccando con il dito se stai usando un dispositivo mobile, puoi leggere i valori associati a ciascun punto sulla tabella. Questa funzione interattiva, mentre ti sposti sul grafico, consente di ottenere informazioni specifiche sui tempi sul giro e sull'iRating. Ci sono tre tipi di tempi, tempo di qualifica, giro veloce e media sul giro. Quindi abbiamo il tempo migliore fatto in qualifica, il giro più veloce fatto in gara e il tempo medio sul giro fatto in gara. Se ci sono più auto della stessa categoria, per esempio la GT3, oltre ai tre tempi per ogni tipi di auto, ci sono altri tre tempi che rappresentano la media dell'intera categoria. Il caso più complesso è per le gare multiclasse, ovvero dove ci sono auto di categoria differente nella stessa competizione. In IMSA, per esempio, sono presenti i tempi delle auto della IMSA 23, che poi sono le GT3, della Dallara P217, e delle GTP, che poi sono le IPR Car. Ora possiamo tornare alla sezione che avevamo saltato prima, quella sui tempi previsti. Qui ci sono le previsioni dei tempi e sono esattamente i valori indicati dalle curve blu che abbiamo visto nella sezione dedicata ai grafici. Qui abbiamo una rappresentazione più veloce e comoda che ci permette di capire se i nostri tempi saranno adeguati. Possiamo variare l'iRating scrivendolo nell'apposito campo oppure trascinando lo slider. Passiamo ora ai grafici relativi agli incidenti. Questi grafici cercano di rappresentare la pericolosità della gara. Una piccola premessa, il numero di incidenti totali non è molto rappresentativo perché una pista con 20 curve avrà mediamente molti più incidenti di una pista con 3 curve. Ecco perché solitamente si utilizza il valore degli incidenti medi per curva. Se in una pista con 10 curve ho 6 incidenti, gli incidenti per curva saranno 6 diviso 10, ovvero 0,6. Per completezza è stato inserito anche il numero medio degli incidenti totali. Inoltre è interessante rappresentare gli incidenti anche in base alla licenza dei piloti. Ma, sempre per completezza, sono stati indicati anche gli incidenti in base all'iRating. Il risultato curioso di questa statistica è che in certe piste il numero di incidenti cala all'aumentare dell'iRating, mentre in altre piste non c'è nessuna correlazione. Torniamo alla schermata principale. Oltre alla settimana corrente delle stagioni è possibile andare a consultare tutto quello che abbiamo in archivio andando alla sezione All Seasons. Ci verrà proposto un elenco ricercabile di tutte le serie. Scelto una serie, vedremo le stagioni e, scelta la stagione, avremo l'elenco delle settimane di gara. Scegliendo infine una settimana potremo vederne le relative statistiche. Se la stagione scelta è quella corrente, nell'elenco delle settimane avremo anche quelle future, così da avere il calendario sotto mano. Ci sono altre sezioni in cui puoi trovare informazioni utili. Vi si accede utilizzando il pulsante nel menu situato in alto a sinistra. Qualora si volesse sapere se un'auto ha già corso in qualche particolare pista per poi accedere alle relative statistiche, puoi utilizzare la sezione Search Car Track Combo. La sezione Track Stats fornisce statistiche sulla partecipazione e sulla frequenza di utilizzo delle piste. In About ci sono le informazioni sul sito e sui dati utilizzati per le statistiche, mentre i pulsanti Light, Dark, Auto consentono di scegliere il tema chiaro o quello scuro del sito. Scegliendo Auto verrà utilizzato il tema chiaro o scuro in base al tema selezionato nel browser. La ricerca Autopista Car Track è molto semplice. Come per la sezione precedente è possibile scegliere la categoria che ci interessa Road, Oval, ecc. Selezionando un'auto avremo l'elenco delle wick nelle quali ha corso a partire dalla più recente. Possiamo aggiungere alla ricerca una particolare pista di nostro interesse. Selezionando uno dei risultati potremo accedere alle statistiche di quella wick. Passiamo alla sezione delle statistiche sulle piste. Come in precedenza abbiamo la scelta della categoria e le statistiche sono di due tipi. By Participation che mostra quelle che hanno avuto maggior partecipazione e By Usage che ci indica le più scelte per la creazione delle stagioni. Nelle statistiche By Participation possiamo scegliere il periodo temporale di nostro interesse mentre quelle By Usage possiamo avere le statistiche anche relative ad una particolare serie. Infine nella sezione About possiamo conoscere la frequenza di aggiornamento dei dati quando è stato l'ultimo aggiornamento il numero di gare che sono memorizzate nel database e l'indirizzo email dello sviluppatore per eventuali suggerimenti o segnalazioni di bug. Abbiamo visto tutto quello che c'è sul sito fino a questo momento o meglio fino al momento della registrazione di questo video. Eventuali nuove funzionalità verranno aggiunte seguendo la logica di navigazione attuale e saranno raggiungibili dal menu o direttamente dalle schermate esistenti. Bene rieccomi qua abbiamo visto veramente tantissime cose tantissimi numeri c'è da veramente da perdersi magari non tutte queste diciamo informazioni queste statistiche possono interessare tutti però io credo che ci sia qualcosa di curioso che a volte merita di essere consultato per esempio una cosa che agli organizzatori soprattutto potrebbe interessare ma anche chi si affaccia per la prima volta su iRacing una statistica che è quella delle piste più frequentate c'è questo dato interessante che ho suggerito io ad Andrea di approfondire cioè quello che sono le piste scelte da iRacing e quelle che poi sono le piste diciamo utilizzate dal pubblico quindi vediamo magari che iRacing propone delle piste e poi vediamo se le persone queste piste le utilizzano oppure no questo come dicevo può essere utile per gli organizzatori di campionati come sono stato io fino all'anno scorso può essere utile per scegliere le piste per venire incontro a quello che è l'utenza e anche magari per chi si affaccia per la prima volta su iRacing e decide di comprare qualche contenuto e si può orientare vedendo quali sono le piste più usate per evitare di comprare una pista che poi magari viene poco usata fermo restando che quando mi chiedono sempre il consiglio su cosa comprare io sono sempre dell'idea che le piste siano tra le macchine e le piste la spesa migliore nel senso che le macchine hanno a volte una diciamo una moda che viene percorsa per utilizzare un certo tipo di macchine c'è un periodo in cui si usa una macchina e poi magari viene lasciata nel dimenticatoio mentre le piste generalmente vengono soprattutto le piste più famose vengono usate molto spesso con tutti i tipi di macchine quindi le macchine vanno e vengono ma le piste restano chiaro se uno poi appassionato dice voglio quella macchina perché ogni tanto voglio andare che ne so al ring o anche una pista che magari è poco famosa come per esempio un midoio che a me personalmente piace molto ma viene poco utilizzata allora quello è un discorso a parte però le statistiche possono essere utili per vedere sia le piste usate sia le auto usate per le season però come dicevo qualche secondo fa attenzione perché le season a volte cambiano a parte le gt3 che ormai sono in auge da tantissimo tempo c'è stato il periodo della gt1 c'è stato il periodo della p217 il periodo della formula renault il periodo della formula 3 dall'ara e sono tutte macchine che poi sono andate un po' in disuso bene io spero che questo video vi sia piaciuto che il sito di Andrea sia anche questo apprezzato vi ricordo che le statistiche vengono aggiornate continuamente anche più volte al giorno e quindi considerato che il sito è gratuito non costa niente fare un salto a dare un'occhiata sempre se volete e ne avete la curiosità di farlo vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto ci vediamo alla prossima mia realizzazione speriamo presto pigrizia permettendo ciao a tutti aprite il gas buon divertimento puoi utilizzare la sezione search car trombo search car trombo search car track gombo sezione oh